E proprio per questo cercherò di essere un presidente di tutti e per tutti. Passaggio di testimone per la Confindustria di Peser Urbino, lascia Mauro Papalini e subentra per la prima volta nella storia una donna al comando, Alessandra Baronciani, alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni. Un incarico importante proprio anche perché in quanto donna è la prima volta mi sento una grande responsabilità, però devo dire che l'accoglienza è stata quasi un'anime, una votazione quasi un'unanimità, un'ottima squadra. Gli obiettivi per il futuro sicuramente è quello di dialogare con le istituzioni e dialogare con il nostro territorio, con tutte le imprese che siano piccole e medie, dall'entroterra alla costa. Vogliamo collaborare con tutti, ascoltarli tutti. Abbiamo già preso in considerazione tutti i suggerimenti che gli associati hanno dato alla commissione di designazione. Speriamo di lavorare bene e dobbiamo cominciare. Grande emozione ieri al Teatro Sperimentale di Pesero, dove in occasione dell'Assemblea Pubblica degli Industriali, dal titolo Coesione tra Imprese e Territorio, organizzata da Biper, Banca e Umana, sono stati premiati 19 aziende che hanno raggiunto l'anzianità di iscrizione all'associazione. In prima fila c'era anche il presidente di Confindustria Nazionale, Carlo Bonomi, arrivato da Roma assieme al vicepresidente Alberto Marenghi, poi il governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha ricordato la centralità e il ruolo dell'impresa, il sindaco Matteo Ricci e tra gli altri il presidente della provincia Giuseppe Paolini, quello della Camera di Commercio Gino Sabatini e il rettore di Urbino Calcagnini. Tra i temi al centro dell'Assemblea, quello della difficoltà di fare impresa e dei tempi lunghi della burocrazia, imprese e quelle del territorio, che costituiscono però un valore aggiunto, perché hanno saputo impegnarsi per la ripresa sanitaria, sociale ed economica in un periodo non facile, segnato dalla pandemia. L'impresa è parte integrante di un territorio, sono sempre stato convinto che si vince e si vince insieme, non può esserci un'impresa senza un territorio vicino all'impresa. Pertanto ecco, questo io credo sia fondamentale per crescere, quando si cresce tutti è fondamentale per crescere. La presidente ne ho eletta, è stata la mia vicepresidente, pertanto per quattro anni abbiamo fatto un percorso insieme, abbiamo condiviso le cose fatte e so che farà un ottimo lavoro. La mia azione è per gli anni di fedeltà all'interno della nostra associazione, e comunque premi per quello che il mondo imprenditoriale ha fatto sono già stati dati in altre occasioni. Abbiamo un tessuto imprenditoriale molto importante, molto attivo, molto sensibile, è stato molto sensibile nei due anni di pandemia. Siamo stati molto vicini a tutte le strutture sanitarie e questo fa capire che il cuore dell'imprenditore è proprio nel territorio. E' stato poi il presidente Carlo Bonomi a ripercorrere tutti i temi che il paese ha sul tavolo, partendo proprio dalla riforma del fisco. Come Confindustria noi abbiamo proposto un taglio del cuno contributivo molto forte, 8 miliardi per noi sono pochi, ne servono perlomeno 13 se vogliamo dare un effetto molto forte, mettere soldi in tasca agli italiani e soprattutto abbassare il costo del lavoro, che è l'unica componente su cui possiamo lavorare. E poi il capitolo inflazione. Ci preoccupa molto perché l'inflazione sta raggiungendo dei livelli pericolosi, ovviamente questo vuol dire un rincaro dei prezzi molto importante e temiamo anche un'inflazione salariale. Se la sommiamo al fatto che stanno aumentando il costo delle materie prime, i costi energetici, capite che le nostre imprese vengono messe in una situazione di grave difficoltà.